Combattere il diabete valutando l'aderenza alla terapia prescritta dal medico, questo l'obiettivo del Dia Day 2019, la grande campagna di tutela della salute che Federpharma ripropone dall'11 al 16 novembre, in concomitanza con la giornata mondiale del diabete in programma per il 14 novembre e che vede il coinvolgimento strategico delle farmacie dislocate su tutto il territorio nazionale e dunque anche ad Arezzo, un'iniziativa che alla farmacia maestà di Giannino si estenderà per tutto il mese di novembre. I pazienti possono venire qui in farmacia dalle 8 e 30 alle 9 e fare lo screening del diabete e quindi farsi la misurazione della glicemia, noi li aiutiamo e li supportiamo gratuitamente per tutto il mese, quindi abbiamo implementato l'iniziativa di Federpharma con un'iniziativa nostra per supportare praticamente questa patologia soprattutto per far emergere anche chi è malato e che non sa di essere malato magari, che non sa di avere un po' di glicemia alta. Da quest'anno inoltre si pensa anche agli amici a quattro zampe. Per chi lo vuole consegniamo un kit per i nostri amici a quattro zampe, sia cane che gatti, si tratta di una striscia praticamente reattiva per misurare la glicemia nella pipì del cane o del gatto. Questa è una cosa innovativa, penso che interessante, perché a volte non si capisce bene, quindi con questa qui si riesce ad avere un'idea se il paziente ha una glicemia alta oppure no.